Oh, c'è un'erboristeria! Quasi quasi mi prenderei una tisana al mirtillo! Che bel colore rosso che ha questa tisana! Sicuramente farà bene alla mia energia! Calda, fragrante e dolce al punto giusto! In questo borgo trovo veramente di tutto! Devo tornare sempre più spesso a Bagno di Romagna! Grazie per la visione! Grazie per la visione!